Il preottero va in cerca di boschi e ammette per debolire le sue uova. Data la loro capacità di adattamento, non sorprende che gli insetti stiano letteralmente conquistando la terra. E l'emblema della sopravvivenza ad ogni costo è proprio lui, lo scarapaggio. Pensate che riesce addirittura a sopravvivere per nove giorni senza testa. Il suo sistema circolatorio necessita di pochissimo sangue e può stare molto tempo senza mangiare. Un tipo del genere non ha paura della fine del mondo. Se gli scarapaggi conquisteranno la terra, mi cercherò un altro pianeta. E adesso, volete sapere che cos'è che pesa più di un milione di elefanti? Avete capito bene, ho detto proprio un milione.